Porsche Consulting è ormai da diversi anni al fianco di 24 Ore Business School e siamo orgogliosi anche quest'anno di poter concepire e organizzare il Master Digital Transformation e nuovi modelli di business. La nostra vocazione come società di consulenza strategica è quella di aiutare le aziende di settori molto diversificati dal consumer goods e ben industriali ad affrontare le sfide della trasformazione digitale. Non solo capiremo come il digitale possa stravolgere i modelli di business e allo stesso tempo offrire opportunità incredibili per soddisfare le ambizioni strategiche di un'azienda, ma soprattutto affronteremo quelli che poi sono davvero i fattori chiave di successo. La strategia, il modello operativo, l'organizzazione e la governance, le competenze, così come fattori fondamentali come il change management e il cambio culturale. La trasformazione digitale non è dotarsi di tecnologie, ma è cambiare profondamente e completamente il modo di lavorare, mettendo il valore dell'essere umano al centro.